Ciao a tutti, come state? Spero tutto bene. Io sono qui alla mezza di un giovedì sera a registrarvi il video su quella che secondo me potrebbe essere una chicchettina. Sono qui a quest'ora perché vorrei portarvi un video oggi, cioè venerdì, e un video domani, cioè sabato. Tra l'altro ho fatto un sondaggio nella mia community. So che in tanti di voi vorrebbero la trimestrale di Alibaba e quindi vi chiedo cortesemente di farmelo sapere con un like e un commento sotto questo video qua. E io lunedì o martedì vi porto il video. L'azienda di cui voglio parlare oggi si chiama Upstart Holdings e non è altro che una società fintech americana fondata nel 2012, se non ricordo male, da un ex Google, ovvero David Giraud, che sostanzialmente sfrutta un'intelligenza artificiale proprietaria per offrire prezzi al consumo. Sostanzialmente il business model di questa azienda si può suddividere in tre cose. La prima è l'analisi dei dati in input. Sostanzialmente l'azienda richiede dei singoli dati alle singole persone, li analizza tramite appunto l'intelligenza artificiale creata da loro e successivamente determina qual è un rating creditizio plausibile per quella singola persona. Il secondo business model è dare la possibilità tramite partnership con società di finanziamento o banche semplicemente per utilizzare appunto l'intelligenza artificiale per offrire prestiti appunto al consumo. Il terzo business model non è altro che quello molto simile alle banche, cioè semplicemente utilizzare il suo algoritmo di proprietà per offrire prestiti al consumo in prima persona e guadagnare sui tassi di interesse. Quindi il business model secondo me è molto semplice da capire. Un'altra cosa molto semplice da capire è il grafico di Upstart Holdings. Considerate che attualmente Upstart si trova all'incirca un meno 95% dei massimi e questo è principalmente dovuto a due o tre fattori che ora vi dico. Il primo è sicuramente il fatto che inizialmente era over hypata. Considerate che è arrivata a capitalizzare in borsa addirittura 30 miliardi di dollari e questo è dovuto principalmente al fatto che nel 2021 soprattutto verso la fine si era formata una bolla sulle aziende tech molto simile a quella che c'è stata negli anni 2000. Il secondo motivo è principalmente il fatto che ovviamente offrendo il proprio servizio a banche che devono offrire prestiti e offrendo prestiti in primis in un momento in cui i tassi di interesse sono così elevati ovviamente porta un po' di ciclicità al suo business. Tant'è che con i tassi di interesse così alti la gente tendenzialmente aspetta di indebitarsi sperando che i tassi di interesse si abbassino e quindi il volume dei prestiti in generale si abbassa e di conseguenza le fees che Upstart applica sui suoi prestiti ma anche sui servizi in generale ai partner collegati si abbassano di conseguenza. E quindi ci ritroviamo inevitabilmente in un momento in cui tutti i multipli di tutte le tech si abbassano perché i tassi si alzano e in secundis inevitabilmente il suo business model ne risente visto la situazione macro. Considerate però ovviamente che nonostante operi in un ambiente macro così sfavorevole comunque Upstart è sempre stata un'azienda growth tant'è che ovviamente risentendone ha diminuito anno su anno dal 2021 al 2022 le revenue solo dell'1%. Quindi non è un'azienda che sta fallendo però è un'azienda che ovviamente ha dovuto ridurre i multipli e passare da un'azienda growth ad un'azienda con i multipli di una value tra virgolette perché attualmente ha un price success di praticamente 1 forse 1 e mezzo tant'è che mi pare il revenue per 850 milioni è una market cap di un miliardo e qualcosa. Quindi sì ha un price success di poco più di 1 però è un'azienda che nel momento in cui l'ambiente macro migliora è destinata a crescere a percentuali molto elevate sopra il 20% a mio avviso. Guardandomi l'ultima trimestrale sono andato a segnarmi quelle che secondo me potrebbero essere le cose più interessanti. Una cosa che sicuramente ha risentito del contesto macro è appunto il net income di Upstart che è passato da essere in positivo di 135 milioni a un negativo di 108 milioni. Andandomi a vedere l'ultima trimestrale sono andato appunto a cercarmi quelle che potevano essere notizie a riguardo tant'è che ho letto che il management nel 2023 cerca di tornare alla redditività il più rapidamente possibile. Tra l'altro hanno deciso di ridurre la forza lavoro del 20% e questo dovrebbe portare all'incirca un risparmio di 57 milioni che so che vi sembrano pochi però per un'azienda che ha un net income di 190 milioni nel 2021 non è poco. Una cosa che sicuramente mi ha fatto piacere dal trimestrale è il fatto che ci hanno detto che l'82% dei prestiti personali concessi nel quarto trimestre 2022 è stato completamente automatizzato e questo alla lunga porta a un netto risparmio dei costi perché inevitabilmente nel momento in cui una cosa viene automatizzata riduce di tanto la necessità di personale che deve essere stipendiato e di conseguenza riduce anche i costi. E pensate che la percentuale passa dal 70% al 82% in solamente un anno quindi potenzialmente vuol dire che in due o tre anni si può tranquillamente arrivare ad oltre il 90% dei prestiti totalmente automatizzati. Un'altra cosa che sicuramente mi fa piacere è il fatto che durante l'ultima trimestrale ci hanno annunciato che attualmente hanno 92 partner di prestito che possono essere semplicemente banche o aziende finanziarie collegate a brand automobilistici e sono in aumento del 119% su base annua rispetto appunto ai 42 di un anno fa e siamo in un contesto macro negativo. Un'altra cosa positiva è che visto che Upstart si basa su algoritmi hanno deciso di sfruttare il 2022 che è un anno di pura incertezza nel campo dei prestiti al consumo per sviluppare un indice che appunto hanno chiamato Upstart Macro Index che ha semplicemente lo scopo di migliorare l'algoritmo principale in ambienti microeconomici avversi. Tutto quello che vi ho detto lo potete trovare semplicemente cercando Upstart IR che sarebbe Investor Relations entrate all'interno del sito fate News & Events Events Presentations cliccate qua vi vedete l'ultima earnings presentation e ad esempio quello che vi ho appena detto sui partner bancari e del credito cioè l'aumento dei partner lo potete vedere qua pure il fatto che l'automazione ha raggiunto un livello dell'82% lo potete vedere qua. Un'altra cosa che mi fa impazzire di Upstart è che dati alla mano è riuscita a far risparmiare all'incirca in media 5.800 dollari durante la vita media di un prestito al singolo contraente che non è poco. Questo è dovuto principalmente al fatto che hanno la possibilità di attribuire correttamente un tasso di interesse in base alla singola persona e questo è dovuto al fatto che hanno in input all'interno dell'algoritmo tantissimi dati in più. Se noi adesso andiamo a vedere lo stato patrimoniale e l'ultimo che abbiamo è il Q4 2022 possiamo vedere come all'interno del mio algoritmo otteniamo un rating di 822 che è assolutamente un rating molto molto positivo e questo è dovuto al fatto che hanno praticamente 460 milioni in cash e investimenti a breve contro debiti praticamente solo di 100 milioni. Sotto il punto di vista patrimoniale siamo sicuramente a cavallo. La situazione cambia un po' se non andiamo a vedere il conto economico degli ultimi 4 trimestri è perché sicuramente il contesto macro non ci porta ad avere voti molto positivi. Però sono sicuro che nel momento in cui l'azienda tornerà in un ambiente macro positivo tutti questi dati miglioreranno ma non sono io a dirlo. Guardate che margini aveva Upstart durante gli ultimi anni guardate un po' che margini aveva aveva margini addirittura del 16% ovviamente al contrario questi erano ambienti macro molto positivi perché avevamo tassi praticamente allo zero quindi i prestiti erano sicuramente molto di più e quindi inevitabilmente Upstart aveva margini molto elevati. Per quanto riguarda invece i multipli la situazione è molto molto positiva tant'è che abbiamo un price to sales di 1.74, un price to book di 2.18 e un pack di 0.75 quindi tutto sommato va molto bene per un'azienda che cresce a questi ritmi qua. Se dovessi dirvi quanto secondo me si può guadagnare da 4 anni su Upstart facendo un po' una stima andando a vedere un po' quali sono anche le stime degli analisti. Penso che un'utile per azione da 4 anni intorno agli 1.90, 2 dollari per azione si può avere, un PE corretto intorno ai 22 ci può stare, di conseguenza ci porta ad avere un prezzo per azione all'inizio di 42 dollari e di conseguenza un possibile gain del 140% in 3 anni. Sicuramente i rischi sono molto più elevati rispetto ad un'altra azione singola però come piccola scommessina a me piace. Penso anche che operi in un settore dove il total addressable market è elevatissimo, di conseguenza i multipli sicuramente potrebbero anche aumentare e da qua a 5-6 anni chi lo sa secondo me potrebbe anche essere una multibagger ovvero un'azienda che potrebbe fare anche un per 10 da questi prezzi qua, tant'è che facesse un per 10 visto che siamo a 17 dollari dovrebbe arrivare solo a praticamente 170 dollari che sono valori che aveva a metà 2021 quindi non mi stupirebbe. Detto questo il mio cipino ce l'ho giocato fatemi sapere cosa ne pensate voi. Ciao a tutti!